e il commento da allora in poi ha sempre mantenuto questa valenza e diamo tanto di la mandata, quindi una protesta con una montagna che viene da un contesto femminile e da un altro quindi la possiamo ascoltare con un po' di... mi soffanuta se... mi soffanuta se me lo vuoi dare me lo vuoi dare, me lo vuoi dare e si lo cuate me... ramè la dolla, ramè la dolla, ramè la dolla che la canguolla a te che la canguolla a te nel roba toia nel roba toia nel roba toia nel roba toia grazie grazie applausi applausi grazie 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 in anch'io grazie sta girando